Il primo turno di campionato, la Sampdoria sarà a Roma con i giallorossi, noi saremo a Palermo. Partiti Ronaldinho, pressato subito da Palombo. Vediamo il Luca che la dà dietro ancora, Clarence Eddorf, prova a manovrare il Milan, sventaglia Clarence, a cercare Manzini, forse una buona palla. Manzini al volo, è bella Borriello, che bella, che bella, che bella. Nei pressi della nostra area di rigore. Ecco Ziegler, è molto alto, attenzione, liberi di testa, Cassano la mette fuori, non c'era fuori gioco. Ziegler, attenzione ragazzi, vi prego, Ziegler supera abate, Poli è libero, la palla è fuori. Gattuso, non siamo riusciti ad andare sulla fascia, bel passaggio di Gattuso per Seeddorf, il tiro è fuori. Che bella occasione nostra, bravo Rino per Clarence. Si preoccupa proprio Amantino Manzini, dai Amantino, palla di Amantino, colpo di testa, gol, il gol di Marco Borriello. 1-0 per noi, 1-0 per noi, 1-0 per noi. Il Marco, che bella palla di Amantino Manzini. Il Marco, è in striscia, il Marco è carico, te l'ho detto, te l'ho detto Dio mio, te l'ho detto, te l'ho detto che è carico, è in striscia. Il Luca che prova a lanciare in profondità, il Marco, il Marco davanti a Storari, il Marco davanti a Storari, porta vuota, il Marco davanti a Storari, porta vuota, lo sbagliamo. No! Manzini alto, incredibile. Ecco Gattuso che chiede di passare ad Abate, ma la palla adesso a sinistra per il Digno. Il Digno cerca la profondità per Clarence, al volo Clarence perché? Ma perché al volo Clarence non va dentro? Cassano dentro per Ziegler, 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 attenzione, Poli, deviazione, allontana Tiago. Ecco ancora il tocco per Poli, Poli la dà in avanti, Daniel salta troppo presto, è grande Dida, ed è grande Dida su Cassano, è saltato troppo presto il Daniele. È saltato troppo presto, bella palata Dida, la Sampdoria continua a spingere, calcio d'angolo battuto, colpo di testa, Dida, grande Nelson! Avanzano i blucerchiati, cross, ancora, colpo di testa, sfiora la traversa Cassano. Gran colpo di testa di Cassano. Se ne va il Luca, finisce il primo tempo, 1-0 per noi, gol di Borriello. Ragazzi vi prego, nella ripresa, uscite di più, uscite di più, uscite di più. Si gioca, raddoppia qui Zauri, riceve, Zauri mette in mezzo, attenzione non facciamo tirare Semioli, attenzione! E c'è calcio di rigore, calcio di rigore per la Sampdoria. E c'è l'espulsione di Bonera. Cassano contro Dida. Oddo sta per entrare. Gol. Gol di Cassano, siamo in 10. Il Moronaldinho che dialoga con il Marco, il Marco prova ad andare, il Marco prova ad andare, il Marco prova ad andare, un bel tiro il suo. Finisce fuori di poco. Vediamo il Luca, ancora per il Digno, il Digno si libera di un avversario, prova a puntare il Digno, entra in rigore il Digno, entra in rigore il Digno, la mette bene, tiro! Parata di Storari! Grande occasione nostra, stupenda occasione nostra, Sedor, deviazione, porta sul Marco la squadra. Passaggio per Ronaldinho, Ronaldinho dentro, Borriello. Borriello, tiro, fuori, fuori, Dio mio, fuori. Se ne va Clarence, se ne va Clarence, se ne va Clarence, la tocca, Ronaldinho, Ronaldinho non tira, prova a liberarsi il Digno, tiro! A fil di palo, a fil di palo Ronaldinho, che cosa ha fatto Ronaldinho? Stava per prendere l'angolo della vita, grandissimo il Digno, grandissimo il Digno, di niente! Luca preso in mezzo da Zauri e Mannini, Zauri la mette in mezzo, paura, colpo di testa Sampdoria. La sfiora Ronaldinho, Tissone la porta largo per Ziegler, adesso ho ufficialmente paura, tiro di Ziegler! Paradida, Paradida, Paradida! Non la prende, attenzione, pericolo, Tiago scivola, Pazzini, palla per Cassano, paura mamma! Palla dentro, tiro, salva Zambro, salva Zambro! Calcio in angolo, Sampdoria, Ziegler, mamma paura, Dida! Paradida! Paradida, sulla linea! Ci sono milioni di tifosi alle vostre spalle ragazzi, resistete per noi, Libero Mannini, Libero Mannini la mette in mezzo, mamma paura, gol! Gol di Pazzini! Momento così! Finisce, ciao a tutti, ciao a tutti!